è importante nella vita fare quello che ci piace e studiare quello che ci piace perché questo ci aiuterà poi a trovare il lavoro che ci piace quindi se ti piace viaggiare col corpo ma anche con la mente se ti piace scoprire che cosa c'è al di là dei tuoi confini incontrare nuove culture nuove realtà e studiare nuove lingue confrontarti con gli altri il corso di studi di lingue di cassino è quello che fa per te corso di studi giovane pieno di docenti entusiasti con un contatto diretto con gli studenti che offre la possibilità di coltivare questa tua passione e di trasformarla nel tuo futuro lavorativo questo anche grazie al fatto che ci sono tirocini formativi costruiti ad hoc per gli studenti di lingue che gli danno il primo accesso al mondo del lavoro e poi perché noi garantiamo l'esperienza erasmus un'esperienza che cambia letteralmente la vita alle persone coinvolte quindi non aspettare viaggia con noi e iscriviti a lingua sono laura frequento il secondo anno di lingue qui a cassino e oggi mi reputo soddisfatta non solo di aver scelto la facoltà di lingue ma anche di aver scelto l'università di cassino che molto spesso viene erroneamente sottovalutata rispetto agli atenei delle città più grandi solo perché dispone di una realtà più ristretta ma credo che questo sia un suo punto di forza e non di debolezza e probabilmente è proprio a questo che dobbiamo noi studenti la nostra possibilità di instaurare i rapporti di fiducia reciproca con i professori anche di comunicazione efficiente l'università di cassino offre anche la possibilità di vivere la grande esperienza formativa dell'erasmus dopo due anni di inevitabile mobilità e il prossimo anno io stessa farò un erasmus di sei mesi che non vedo l'ora di vivere